È il momento dell'informazione in diretta dedicata a Lecce e Provincia, lo facciamo come sempre andando in collegamento, in diretta dalla nostra collega Maria Teresa Carrozzo, dalla redazione di Lecce, perché proprio in diretta da Lecce avremo, lo vedo già pronto, il presidente del Consiglio di Surbo, Antonio Antonazzi, che nei giorni scorsi si era reso protagonista di uno scivolone politico che aveva coinvolto, anche la nostra collega. Buon pomeriggio Maria Teresa, buon pomeriggio al tuo ospite. Buongiorno Valentina, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo in diretta qui dalla sede Lecce, sede di Antenna Sud, come vedete un ospite in studio, un ospite tra l'altro che noi aspettavamo, avevamo anche annunciato il presidente del Consiglio Comunale di Surbo, il dottor Antonio Antonazzi. Benvenuto dottore, presidente. Buongiorno, grazie dottoressa per l'opportunità. Vi riassumo Valentina brevemente quanto accaduto. Consigli comunali effervescenti e spesso accuse al vetriolo, spesso al centro del dibattito, il presidente del Consiglio che, come nelle facoltà delle sue funzioni, cerca di moderare il dibattito politico e dall'altra parte un'effervescente consigliera comunale, la consigliera Dantini, Mena Dantini, che spesso ha accusato il presidente del Consiglio addirittura di sessismo all'interno del Consiglio stesso. In questa diatriba, in passato, siamo finiti nei scorsi giorni anche noi con dei commenti e degli aperativi non piacevoli di cui sicuramente il presidente ci chiederà scusa, vero presidente? È il minimo che possa fare. Purtroppo mi sono sentito aggredito e devo dire che ho reagito male. Mi perdoni, dottoressa? Ci mancherebbe, siamo andati oltre, ma entriamo nel tema. In realtà c'è un attacco sessista verso la Dantini o è tutto strumentalizzato? No, guardi, dottoressa, mi perdoni, ma non posso assolutamente accettare l'accusa di sessismo nei miei confronti né nei confronti di alcun altro consigliere o di qualche componente della maggioranza o dell'Aggiunta e tantomeno del Sindaco. Purtroppo la consigliera Dantini, fin dal primo giorno, ha assunto toni particolarmente astiosi nei nostri confronti, che non fanno parte della dialettica politica. Ha sempre avuto un atteggiamento piuttosto livoroso, cercando di aggredirci, di attaccarci continuamente, scendendo spesso anche all'offesa. Questo lo può riscontrare, mi sono permesso un piccolo cadeau in cui le ho fatto riportare, grazie alla collaborazione della dottoressa Rollo, ho fatto tutti i consigli comunali dal nostro insediamento fino ad oggi, cioè io mi ho sentito di ogni donde, parole che non voglio nemmeno riferire, non voglio nemmeno portare in questa diretta, perché non mi sembra il caso, io non sono una persona che cerca lo scontro, l'astio, ma io devo portare avanti i lavori del Consiglio Comunale e cerco di farlo nel migliore modo possibile, cerco di però evitare che si prevarichi, evitare che si oltragino alle persone, perché purtroppo in questo ambito molto spesso non c'è soltanto il mancato rispetto verso l'istituzione, verso l'ente, ma c'è anche un attacco diretto alle persone e io quello non lo posso digerire, non lo posso portare, sia che venga dai banchi della minoranza, sia che venga anche dai banchi della maggioranza, l'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito e lo confermo finché sarò in quel posto, cercherò di portare avanti la mia opera, cercando di far portare rispetto verso tutti, da tutti verso tutti. Presidente siamo in chiusura di questa diretta, poi nel caso approfondiamo anche con uno speciale, se pensiamo sia il caso, lei ha parlato di oltraggio, quindi vi siete sentiti attaccati, ecco perché lei ha risposto in questo modo? Guardi dottoressa, nello specifico, nell'ultimo episodio che lei ha mirabilmente riportato, stavamo discutendo una mozione su cui c'era una limità di intenti, quindi il passaggio chiave è stato questo, la consigliera Dantini alza la mano, io le dico consigliera guardi che lei ha già parlato due volte, così come da regolamento, ho detto quindi non può intervenire e lei mi fa, va ne va, questo gesto mi fa, a quel punto il sindaco interviene con quella frase poco elegante, però chi istiga non è il sindaco, non è la maggioranza. E grazie mille al Presidente Attorazzi, grazie Presidente per la disponibilità e per averci messo la faccia, questo lo apprezziamo noi e i nostri spettatori. Io ringrazio lei, rinnovo le mie scuse, purtroppo ogni tanto perdo la brocca anch'io. E noi Valentina che facciamo comunicazione e giornalismo da tanti anni siamo abituati, quindi la nostra casa è la vostra casa Presidente e ripassiamo la linea in studio. Grazie a tutti.